Ultimo turno del girone di andata, ultima possibilità di recuperare un percorso altalenante. Al Ceravolo arriva il Fondi, una formazione particolare che nelle precedenti gare ha già messo in difficoltà le altre formazioni calabresi. Solo la Vibonese è riuscita a fermarla. Sei le vittorie totali, due quelle fuori casa. L'ultima il 7 dicembre, ironia della sorte, anche l'ultima vittoria in casa del Catanzaro porta la stessa data. Per il Cosenza invece si prospetta una trasferta impegnativa. La squadra di Rosselli nell'ultima giornata sarà impegnata a Foggia, a più 5 in classifica. Un'occasione da non sprecare quindi per il Cosenza che dovrà approfittare del periodo non proprio brillante dei pugliesi. L'ultima vittoria interna è ferma il 20 novembre. Per il Rosso-Blu è la prova del 9 prima dell'attesissimo derby. Discorso delicato per le altre due formazioni calabresi. Trasferta siciliana per la Vibonese. Sfida che vale quasi la salvezza. Il Rosso-Blu contro il Messina proveranno ad uscire dalla crisi, tentando magari anche il sorpasso in classifica. Messina che in casa non vince ormai da quasi due mesi. Zeman suona la carica. Contro la Paganese è vietato sbagliare. La regina deve necessariamente lasciare la parte rossa della classifica, portando a casa l'intera posta in palio. Il pareggio non è più contemplato. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.